Tanto impegno da parte delle associazioni di volontariato che collaborano con Chima Ambiente AMIU per la raccolta differenziata. Davvero apprezzabile l'impegno dell'associazione Retake che già nel Nomen proprio espone, esplicita la sua funzione, riprendere la bellezza, restituire a Taranto la sua bellezza. Abbiamo due rappresentanti, uno giovane e uno diversamente giovane, ma ci fa piacere che ci sia questo impegno di diverse generazioni. D'altronde con tante giornate di sole si potrebbe andare a mare, invece in quei giorni, in alcuni giorni, si sacrifica lo svago a favore appunto dell'impegno per la collettività. Lei è il signor? Romagnano Francesco. Francesco Romagnano. Allora ci dica un po' le ragioni che l'hanno spinta a questa partecipazione. Io sono stato sempre, diciamo, perché stavo nella zona industriale e vedevo quello che succedeva. Purtroppo rientrando in città mi sono dedicato a questo, per me è come uno svago. Uno svago che oltretutto comporta benefici. Comporta benefici e io ci tengo tanto a guardare, a fare, a insegnare per chi può fare meglio questa differenziazione. A sensibilizzare perché molte volte tanta gente, lo dicevamo con altri rappresentanti di associazioni. In buona fede sbaglia. Sì, in buona fede ognuno arriva e butta qualcosa. Dove non dovrebbe. Non dovrebbe, però possiamo andarla a prendere da là dentro o no, insegnarli a chi viene dopo. Dopo il signor Romagnoli, Romagnano, pardon, Romagnoli è il calciatore, è un difetto di passione per il calcio. Un altro rappresentante di Retake, più giovane, lei si chiama? Andresani Andrea. Andrea, dici un po' le ragioni che ti hanno spinto a dare il tuo impegno, a collaborare con Retake e anche la soddisfazione dei risultati raggiunti. Perché far comprendere ad una persona quale deve essere il giusto percorso per la differenziata? È un qualcosa che comunque ti dà soddisfazione. Le ragioni sono chiare. Rendere la città pulita e ordinata. Questo progetto ci porta proprio a fare questa cosa. Vogliamo che la città diventi pulita, diventa ordinata, diventa bella. Purtroppo è difficile perché la gente ancora deve imparare. Però noi siamo fiduciosi e sappiamo che questa cosa succederà. Alla fine tutti i cittadini impareranno a fare la raccolta differenziata tranquillamente.